Ma questa sera è andata molto bene per mio conto, la squadra ha girato bene, c'è ancora un po' di incertezza, bisogna un attimo metterci ancora d'accordo bene e riuscire a concordare le ultime cose, però è andata molto bene in complesso, peccato per il risultato, però tra due settimane adesso incominciamo il campionato, speriamo in bene, per questo test match è andato piuttosto bene. Grazie, molto bene, sono tutti veramente cordiali, mi hanno accolto benissimo, sono contentissimo anzi di essere qua perché a 18 anni è un'esperienza unica da fare, non c'è uguale, infatti sono veramente entusiasta.